Focus sul parco Villa de Rises di Pescara. I residenti della zona sono tornati a lanciare appelli sullo stato di abbandono. Dallo scorso maggio, ristorante Bar Chiusi, giochi per i bambini rotti. Il Consorzio Stabile Impresa e Sociale, insieme con le consorziate Cooperativa Sociale La Nave e Accademia Soccer Società Sportiva Direttantistica, è aggiudicatario della gara pubblica d'appalto per la gestione del parco per i prossimi 15 anni. Dal mese di agosto il Consorzio ha ufficialmente adottato il parco, si occupa gratuitamente della pulizia ordinaria delle aree e sta lavorando alla realizzazione del progetto che prevede il ripristino e la messa a norma delle strutture, delle aree verdi e dei giochi. Ma intanto il malcontento è diffuso. È una situazione di abbandono dal mese di maggio scorso, quando il parco venne chiuso perché era scaduto il bando del gruppo che gestiva. Adesso il parco da maggio è in abbandono, non si sa la nuova società quando e come entrerà in azione. Il ristorante è chiuso, il bar è chiuso, però c'è un punto dove si può entrare dentro e i ragazzini lo fanno con dei rischi importanti. Tutti i giochi dei bambini sono in disuso perché se sono rotte nessuno li mette a posto. È diventato il parco, l'area dove portare i carri a fare i bisogni. E si sente una puzza veramente nauseabonda. Quindi non è più frequentato fino a maggio, quando sono cambiate le cose? Assolutamente. Qui ogni settimana c'era uno o due comprianni dei bambini. C'era festa, si suonava, era un punto di incontro per tutti i ragazzi che usciti dal borgo marino della scuola venivano qui. Adesso è diventato un qualcosa dove uno se non può fare a meno ci viene. Va a portare i cane a spasso e a fare i bisogni. Altrimenti non ci viene. E questo è veramente un peccato. Gabriele De Bari che abita nei paraggi si fa portavoce, possiamo dire così, di questa forma di disagio. Avete fatto comunque voi cittadini, voi residenti della zona, delle rimostranze? Io personalmente ho contattato qualcuno in comune che mi ha detto guarda si metterà a posto, non ho avuto alcuna risposta concreta. Mi hanno promesso che avrei potuto parlare con uno dell'assessorato, ancora sto aspettando. La gente è scontenta, vorrebbe andare dal sindaco, ma io mi auguro che il sindaco venga qui. Il signor sindaco viene qui, non venire solamente quando ci sono le elezioni, che è normale. Ci vengono anche quando ci sono i problemi e sono i problemi di tutti i cittadini, di un quartiere molto grande, importante. Ci sono tanti pescatori, ci sono dei pescatori che sono pronti a fare una gregliata gratis per tutti appena il parco si riapre. Per riprendere il discorso che si è interrotto a maggio.